Ma non lo vedrete ancora fra molto, infatti il fondo sparisce. Adesso sotto di noi ci sono 15 metri d'acqua, ed è proprio qua sotto che si trova il tratto finale di un sifone, cioè la fine di un sistema di grotte completamente riempito d'acqua e fatto più o meno a forma di ruolo, il sistema che raccoglie l'acqua che scende dalla montagna e lo porta ad alimentare la sorgente di sorgente.